Fra le tappe siciliane del tour elettorale di Antonio Di Pietro, anche quella di Caltagirone, il leader di Italia dei Valori ha puntato i riflettori sull'esigenza di un totale cambio generazionale della classe dirigente all'insegna della discontinuità, necessaria per dare una risposta alla crescente sfiducia della gente nei confronti della politica. In questa importante competizione elettorale onorevole sono due le tipologie di avversari. I partiti politici, le coalizioni e poi ce n'è uno sempre meno virtuale rappresentato dall'astenzionismo. Qual è l'arma, quali sono le armi con cui lo sta combattendo Italia dei Valori? L'Italia dei Valori qua in Sicilia innanzitutto sta ponendo un problema che riguarda tutta la nazione. Dobbiamo andare oltre le sigle dei partiti e andare a vedere in concreto qual è la qualità della classe dirigente che proponiamo in questo caso ai siciliani. Noi crediamo, dopo tutto quel che è accaduto in Sicilia e le conseguenze drammatiche che si sono verificate in Sicilia per quanto riguarda l'occupazione, il lavoro, le pari opportunità, la grande divaricazione sociale fra pochi che stanno troppo bene e troppi che stanno troppo male. Noi crediamo che ci sia bisogno di un ricambio generazionale della classe dirigente e un segno netto di discontinuità e questa è la ragione per cui ci siamo rivolti alla signora Marano come governatore. C'è veramente necessità di mettere ordine in Sicilia e quindi una donna, mai come in questo momento, si può ritenere una donna che si è battuta per i diritti civili, per i diritti lavoratori, per le pari opportunità può essere una risposta, mai come in questo momento la risposta può essere un segno netto di discontinuità. La seconda questione è quella di creare coalizioni che si basano sul programma e non sulle ragioni numeriche. Questa idea cioè che bisogna stare insieme per raggiungere un quorum senza condividere un programma e nel caso di Sicilia senza condividere un ricambio sul piano etico ci è sembrato davvero una cosa che andava denunciata. Quindi la coalizione di cui fa parte l'Italia Valori è una coalizione che si pone e propone all'insegna della discontinuità e chiede ai cittadini di darci la forza appunto di rappresentarla nelle istituzioni questa discontinuità perché noi ci differenziamo dai Movimento 5 Stelle di cui non sentite parlare mai male noi dell'Italia Valori e loro parlano male di noi perché noi come loro segnaliamo la malattia, loro la segnalano come protesta, noi vogliamo operare chirurgicamente e quindi risolverlo il problema cioè offrire un'alternativa di governo. È successo a Palermo e quella primavera di Palermo vogliamo che si ripeta anche nella regione Sicilia. Di Pietro anche a Caltagirone non risparmia critiche nei confronti del governo Monti. Ma noi siamo per un'alternatività netta anche nei confronti del governo Monti perché il governo Monti è al di là delle belle parole, del bel vestito con cui si propone. In realtà è né più né meno che un governo di poteri forti, di lobby che ogni giorno pensa di far quadrare i conti, il conto, senza preoccuparsi, anzi fregandosene di chi deve pagare il conto. Soprattutto le fasce sociali più deboli sono quelli che lo pagano. Infine l'ex magistrato ribadisce la prerogativa di Italia dei Valori, ovvero la legalità. C'è stata una persona che ha ricevuto un solo avviso di garanzia e la prima cosa che abbiamo fatto l'abbiamo fatta dimettere e va dal suo giudice a farsi giudicare. Invece altri partiti li mandano in Parlamento per non farli processare. C'è una bella differenza.